Ciao ragazzi, molti mi state segnalando questa nuova app che è comparsa di recente con le origini sconosciute Molti l'hanno vista comparire nell'aggiornamento V72, ma in realtà esiste già dalla V71 Si chiama Mobile MRC Setup MRC sta per Mixed Reality Capture Ed è uno strumento che serve agli sviluppatori per creare applicazioni in Mixed Reality MRC Setup sarebbe lo strumento di configurazione di questo strumento per gli sviluppatori Avviandola, che cosa si vede? Esattamente questo, il vostro ambiente reale In questa specie di grafica che ricorda un po' Tron E di una precisione impressionante Perché io posso muovere degli oggetti nell'ambiente e questi vengono riconosciuti Io per esempio adesso sto aprendo questa maniglia qui E si aggiorno in tempo reale senza alcun ritardo È talmente preciso, guardate, addirittura si vedono ombre e le luci e le pieghe della pelle sulla mia mano È altamente preciso Se venisse integrato per dei giochi in realtà mista E allora parleremmo di applicazioni, di una precisione impressionante Perché non sarebbe più il tracciamento approssimativo che abbiamo attualmente Ma qualcosa che funziona in tempo reale Guardate questo cuscino come si muove con questa modalità È che riconosce perfettamente i bordi di tutti gli oggetti presenti nello spazio Al momento è un qualcosa di incompleto Perché dice di continuare sull'applicazione per configurare appunto questo setup Però poi andando sul mio telefono E fra l'altro vi faccio vedere Addirittura consente di leggere perfettamente lo schermo del telefono Quindi se io apro la mia applicazione Magari per cercare il prompt di configurazione di questa applicazione Non mi compare niente sulla mia app Quindi si tratta molto probabilmente di uno strumento pensato per gli sviluppatori Quindi a noi per adesso non ci riguarda E che sicuramente deve essere completato con un'altra funzione Che magari arriverà con un aggiornamento sull'applicazione mobile Per consentire la configurazione completa di questa applicazione Quindi al momento se volete entrare in questa applicazione per curiosità Cercate nelle vostre origini sconosciute Ma non ve ne fate un bel nulla Cercate nelle vostre origini sconosciute